E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Perché sto registrando questo video alle 20.40 di sera? Beh, semplicemente perché Oggi pomeriggio verso le 4 è uscita una novità importantissima Riguardanti i leak di iPhone 14 Probabilmente, visto che questo leaker Indovina quasi sicuramente Saranno i leak che confermeranno praticamente tutto Infatti ora vi farò un recapone generale E fino a marzo non ne riparliamo più A meno che non esce qualcosa di interessante Ma non preoccupatevi, diciamo che È un video news della domenica anticipato Ma domenica il video ve lo anticipo Perché Blackberry pareva defunta Invece a quanto pare Il primo febbraio rilascerà un nuovo smartphone Ma ve ne parlerò domenica Questo era solo un cebo Un preambolo Quindi oggi voglio parlare di iPhone 14 Ma prima Sigla Beh ragazzi Perché vi voglio parlare di iPhone 14 Perché a quanto pare Questo magnifico design Che pure a me piaceva un sacco Sarà solo di iPhone 14 Pro E iPhone 14 Pro Max Mentre iPhone 14 Mini Che ci sarà E iPhone 14 base Niente Arranno la scocca di iPhone 13 Mini E iPhone 13 Base Diciamo un modello normale E quindi cosa comporta tutto ciò Che In qualche modo il vetro andrà cambiato Perché non si può fare uguale identico Il problema È che La scocca Sarà diciamo Le dimensioni di tutta la batteria Sarà identica Quindi alla fine diciamo che Secondo me L'anno prossimo vendranno molto L'iPhone 14 Pro base Considerando il nuovo design Con le fotocamere A livello del vetro posteriore Con questo Proprio design a mattonella Stile iPhone 4 E secondo me sarà davvero davvero interessante Considerando che la noccia Non sarà più un pallino Ma sarà probabilmente una pillola Sì La noccia a pillola Con questa forma ovale Che dovrebbe essere la nuova noccia Ovviamente L'iPhone 14 Mini E l'iPhone 14 Avranno la noccia ridotta Ma la classica noccia Che abbiamo visto anche quest'anno Mentre Perché si pensava Che non ci fosse Magari la porta lightning Si vociferava Più che pensava E invece ci sarà Beh È semplice Perché per utilizzare Ad esempio Apple CarPlay Come fai senza lightning È davvero difficile Sì Voi mi dite C'è Apple CarPlay Wireless Ma ora io voglio fare un po' Una lista delle macchine Che ce l'hanno Gruppo FCA Quindi che comprende Fiat Alfa Romeo Abarth Ferrari Tra l'altro Chrysler L'unica macchina Nel gruppo FCA Quindi un enorme gruppo Stessa cosa Per Stellantis È semplicissimo Nel gruppo Stellantis Nessuno Nel gruppo FCA La 500e Ovviamente Quello è di serie Addirittura Ad esempio Sulle Opel Un esempio È solo col filo Da tanti anni Però è solo col filo Sulla BMW Sulla Mercedes È disponibile Con il filo Attraverso Quindi CarPlay Col filo Ma già come optional Sulla classe S Elettrica Quella che è uscita quest'anno Hanno messo CarPlay Wild Class Ovviamente come optional Sulle Ford Non c'è Proprio Su alcune macchine Ad esempio Le Toyota Apple CarPlay Non esiste Quindi capite che Diciamo che Apple CarPlay Via filo Praticamente Anche se Gli iPhone Sono meno I dispositivi Android In circolazione CarPlay È più utilizzato In quantità Di Android Auto Perché le macchine Molte Ce l'hanno Anche di base Nell'allestimento Diciamo Non quello base Nell'allestimento intermedio Molte includono CarPlay Mentre Android Auto Non è pervenuto Fatto sta Che quasi tutte le macchine Come stavo dicendo CarPlay C'erano solo modalità Cavo Senza Non wireless Perché Secondo John Prosser In questo comunicato Stampa Tra molte virgolette Ha detto Che rimarrà Il notch Su iPhone Perché Siccome l'hanno introdotto Su Mac Oramai È un tratto distintivo E quindi Secondo lui Rimarrà Per sempre Fino a quando Non arriveremo Alla totale scomparsa Un piccolo notch Un piccolo segno Identificativo In alto Per riconoscere I prodotti Apple E quindi Ragazzi Cosa dobbiamo aspettarci Delle Airpods Con il notch Ovviamente si scherza Però probabilmente Arriverà magari L'iPad base Non un iPad base Ma un iPad con il notch Veramente Magari Un bordo Tutto senza bordi E sopra Questa goccina Che farà Da notch Magari arriverà L'iPad Da 14 pollici L'iPad Pro Da 14 pollici Con il notch Questo è un mio pensiero Che probabilmente arriverà Vi spiegherò più avanti Perché diciamo Che sono ancora Solo notizie Che girano nell'aria Mentre riguardante Questo iPad Non preoccupatevi A breve Arriverà La recensione Anche se lo sto Tuttora testando E quindi Notizie non c'è più Nient'altro Si si sa Come al solito Siccome anche stanno A livello processore A 15 Avranno la 16 Sui modelli Pro Visto che sono un po' più spessi Potrebbero avere Anche la batteria Leggermente maggiorata Nient'altro Le fotocamere Probabilmente ci sarà Una granulare Da 48 megapixel Che non so cosa serve Però Considerando l'ottimizzazione Di Apple Una grande angolare Da 48 megapixel Praticamente farà I miracoli Veramente Sembra una fotocamera Stile cinema Tutto compresso In un corpo Che potrebbe diventare Magari un millimetro Più spesso Anche se secondo me Non è una tragedia E quindi Pure sul mio foglio Che mi sono scritto Qui Le notizie finiscono E tutto ciò Che abbiamo pervenuto Che vi ho raccontato È finito qui Molti di voi Mi hanno chiesto Nell'ultimo video Dove trovi le notizie O su Reddit O su Twitter Negli altri social network Non si trova niente Volevo solo dirvi così E quindi niente ragazzi Noi ci vediamo Se tutto va bene Anzi sicuramente domani Con il video news E niente dai Ciao E alla prossima Ah scusatemi Se ci sono due video news Di seguito Ma uno riguardante Apple Uno riguardante Il mondo dell'informatica E dell'elettronica In generale dai Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao